I civici volontari annigendio Xirbi lanciano un appello per chiedere la riapertura della fontana Xirbi. Si tratta di un'infrastruttura che storicamente è servita a soddisfare il fabbisogno di diverse contrade del circondario e che in questo momento di grave difficoltà e crisi idrica diventerebbe una vera fonte di ristoro. I volontari guidati dal presidente dell'associazione Rosario Gentile mettono a disposizione le loro risorse sottolineando che qualora la loro richiesta fosse approvata provvederebbero in autonomia a ristrutturare la fontana mettendola in sicurezza e essendo la sede associativa proprio di fronte alla fontana di garantire con la propria vigilanza che non avvengano sprechi d'acqua. Stiamo richiedendo di nuovo se si può aprire questa fontana perché la fontana di Xirbi è una storia, è la gente che passa, riempie quel bidone d'acqua, si disseta e altro. L'altro problema sorge perché noi abbiamo qua una postazione antincendio, la sede, è predestivo quando ci sono degli incendi dovremmo andare a caricare un'altra insetta a monte e chiediamo oltre questo una colonnina per approvvigionamento dell'acqua, per i mezzi di soccorso. Ma qua c'è Caristoppa, Xirbi, Pescazzo, Borgo Petilia, Contratanchilà. Qua viene gente pure da San Cataldo a prendere l'acqua. Tra l'altro quello che noi chiediamo e diciamo alla giunta, per la fontana noi ci prenderemo cura perché qua c'è sempre come dicevo qua una postazione sempre fissa, metteremo dei rubinetti quando non ci sarà nessun spreco di acqua. Questo ne prendiamo cura noi per ripristinare la fontana e stare attento a se ci sono dei sprechi d'acqua. È un bene anche la colonnina per tutti perché qua vicino c'è la stazione serbia, l'intervento potrebbe essere più veloce come per noi, come per i vigili del fuoco. Stamattina ho avuto modo di leggere l'istanza del gruppo di volontari. La richiesta loro la stiamo valutando soprattutto per quanto riguarda la bocchetta di carico acqua. Chiaramente la fontana va ripristinata, per noi va bene, però soprattutto perché ci sarà la vigilanza da parte loro e l'attenzione perché noi non possiamo sprecare una sola goccia d'acqua. Sicuramente ci saranno problemi in estate perché gli invasi sono vuoti, quindi a queste condizioni possiamo valutare per bene tutto quanto. Chiaramente poi deve autorizzare l'ente fornitore, parliamo di Sicilacque perché la fontana sta proprio sull'adduttore principale che va alla città di Caltanissetta, ma sicuramente manderemo avanti l'iniziativa della bocchetta perché anche i vigili del fuoco potrebbero approvvigionarsi lì per andare a servire una parte di territorio che in questo momento è scoperta.